Buongiorno, siamo lieti di presentarvi la nostra azienda Tiaffitto. Tiaffitto anche in quest'anno, così impegnativo, è rimasto a fianco di centinaia di proprietari, inquilini e persone alla ricerca di un subentrante. Tiaffitto si occupa di locare immobili nel modo più all'avanguardia che conosca il nostro cantone. Ecco come funziona il nostro servizio. Un consulente si reca presso il tuo immobile, prende i dati della proprietà e li inserisce all'interno del nostro gestionale che immediatamente sarà in grado di dirci quale dei nostri clienti possano essere interessati alla tua casa. Il fotografo professionista esegue il servizio fotografico. Viene realizzato il video che ci permetterà di fare una prima grande scrematura dei potenziali inquilini, evitando visite a vuoto con i potenziali clienti. Una copywriter scriverà l'annuncio in maniera professionale, parlando al target ideale per il tuo appartamento e lo descriverà con dati precisi. Inseriamo il tuo annuncio ovunque, su tutti i portali immobiliari del cantone Ticino. Gli annunci verranno ripubblicati ogni giorno così che siano sempre in prima pagina. In Ticino lo sfitto è alle stelle, ma comunque grazie alla potenza del nostro marketing riusciamo a ricevere dalle 200 alle 500 chiamate al giorno, perché i nostri immobili sono sempre i più visti. Aiutiamo i nostri potenziali inquilini a reperire la loro documentazione. Ci occupiamo anche con il nostro team di assicuratori interni di fornire loro le R.C. domestica, il deposito di garanzia tramite assicurazione o qualsiasi altra assicurazione di cui necessitano. Sottoponiamo il fascicolo completo alla proprietà. A questo punto, in caso di buon feeling da parte dei proprietari con i loro nuovi potenziali inquilini, stipuliamo il contratto di locazione e portiamo a termine la locazione dell'immobile. Ecco come diventare un nostro stimato e coccolato cliente. Chiamaci allo 091 921 24 28 oppure allo 078 404 56 75. Se preferisci puoi scriverci una mail a info-tiaffitto.ch. Ti affitto, non darmi mai ed è sempre felice di realizzare i tuoi sogni immobiliari.